Arrivata a un certo punto la partita si era messa male per noi i primi due tempi, abbiamo giocato un po' male, il nostro portiere ha parato abbastanza male, si può dire, ha parato proprio. Poi nel quarto tempo siamo comunque riusciti a realizzare la partita e nel quarto tempo secondo me l'inerzia della partita era dalla nostra parte. Però abbiamo sbagliato tre uomini in più di fila che ci potevano rimettere sull'otto pari e poi va bene, avevamo preso l'ultimo gol a questi 58 secondi dalla fine. Purtroppo siamo mancati forse negli uomini in più, tanto per cambiare, che comunque sono una parte determinante del gioco. Come partita comunque mi è sembrata abbastanza equilibrata, loro hanno fatto più gol in uomini pari e hanno vinto la partita.